Pareggia il Termoli che non ce la fa centrare la quarta vittoria consecutiva. Impatta il Gino Cannarsa contro la Miternina, una squadra che è sotto di qualche punto in classifica rispetto alla compagine basso-Molisana. La partita non è brillante, il Termoli si schiera in campo con l'ultima defiance, quella della giornata precedente di Felici, che rimane out infortunato durante l'allenamento del sabato. Termoli quindi ridisegnato nello scacchiere da mister Di Meo per una squadra che ovviamente insegue un risultato di prestigio, la quarta vittoria di seguito e soprattutto l'avvicinarsi verso la salvezza. Si incomincia con il Termoli subito concentrato in campo dopo sette minuti su un retropassaggio. Ragazzo alla prima occasione però temporeggia troppo, il pallone arriva nella zona di Santoro che aspetta troppo la sua conclusione, murata dalla retroguardia della Miternina, poi ancora ragazzo che non riesce a scaricare in rete. Il vantaggio per il Termoli esce fuori dal guscio la compagine marsicana che si è fatta vedere pochissimo negli ultimi 16 metri avversaria. Qui il cross dal fondo con D'Alessandris che si coordina bene, la sua conclusione è alta. Sulla traversa, minuto numero 16, d'angolo del solito romano ci prova in qualche modo Fuschi. La sua girata con la palla che termina sul fondo, nessuno riesce a deviare la sfera. Primo tempo a ritmi blandi, 45esimo e ancora Santoro a provare una spina nel fianco di questo attaccante Foggiano. Pallone in mezzo, ragazzo stoppa bene e poi incredibilmente cicca la sfera. Poteva essere l'occasione giusta per l'attaccante Sardo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa, sicuramente un Termoli diverso. Quello che va in campo nei secondi 45 minuti di gioco è una squadra che vuole il risultato. Vuole subito sbloccare la partita e dopo due minuti da cross di Sorianello si gira di testa. Ragazzo, la sua palla, il suo colpo di testa però non inquadra lo specchio della porta. Ancora un ciro di lancette. Terzo minuto ancora, un retropassaggio all'indietro. Il ragazzo ha sul piede l'occasione giusta ma incredibilmente. Caccia le ortiche sul retropassaggio maldestro di Mariani. Minuto numero 12, ancora il Termoli, questa volta ci vuole Capitan Falco. Ma Merlini è strepitoso con un colpo di Reni a negare la gioia del gol al Termoli. Due minuti più tardi, quattordicesimo, ancora palla per Ragazzo. Tentenna troppo e Merlini gli va a chiudere lo specchio della porta. Sicuramente in giornata no, l'attaccante Sardo. Termoli che immagina gioco, diciassettesimo, pallone in mezzo. Ragazzo prova alla profondità, palla per il nuovo entrato Vitale. Il suo tiro è una specie di cross con nessuno che riesce a deviare in fondo al sacco. La sfera che si spegne sul fondo esce dal guscio. La compagine è marsicana, pallone in mezzo di Mariani. Prova il palleggio volante Terriaca, sfera allontanata. La girata è da parte di D'Alessandris con il pallone che Marco Nato riesce a ribattere. Termoli sulle ali dell'entusiasmo e sospinto dal pubblico cerca di creare l'occasione vincente. Minuto numero 23, ci prova con questa conclusione. Camporeale, sfera abbondantemente alta sulla traversa nel finale. Trentatreesimo quando il Termoli non riesce a combinare un cranché. Ci prova Carrato su punizione, marconato e strepitoso. Va a negare la gioia del gol a nuovo entrato. Algino Cannarsa finisce in parità 0-0 fra Termoli e Amiternina. E tanta delusione in casa giallorossa.